Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. Ex veterinario proprietario di un canile a Parma percepiva rette per animali adottati o morti, truffato anche il comune di Bellaria. Ad un mese dalla frana della Rupe siamo tornati a San Leo. Gli sfollati non sanno ancora quando potranno rientrare nelle loro case. Intanto continuano i rilievi tecnici. Approvato il bilancio 2013 di Banca Karim, tornano i dividendi che mancavano dal 2009, utile netto di quasi 6 milioni di euro. Rino Gattuso, ospite all'Università di Rimini, ai ragazzi ha detto che è importante studiare ma fuori è una giungla. Sul calcio, in Brasile, se l'Italia sarà sotto pressione, darà il massimo. C'è chi vende prestiti. Libra Finanziaria li disegna su misura per te, mettendoti a disposizione un tutor che ti seguirà per trovare la soluzione ideale per le tue esigenze. Libra Finanziaria eroga direttamente finanziamenti a lavoratori dipendenti e pensionati, senza spese di agenzia o mediazione. Chiamaci al numero verde 800 942 949 o visita il nostro sito libraspa.it Abbiamo il prestito giusto per te. Libra Finanziaria, nel mare dei prestiti. Scegli i migliori. Ben ritrovati in studio. Il Corpo Forestale di Parma ha dunque denunciato un veterinario che gestiva una struttura di ricovero e pensione per cani e continuava a percepire la retta per il mantenimento da parte dei comuni anche quando gli animali erano morti o adottati. Otto i comuni truffati, tra cui anche quello di Bellaria. Nei due anni presi in esame la truffa ha fruttato all'uomo più di 10.000 euro. Il gestore della struttura, un veterinario piuttosto conosciuto, si era volontariamente cancellato dall'albo professionale per raggiunti limiti d'età e ciò nonostante continuava ad esercitare la professione facendo operazioni chirurgiche, inoculando microchip e prescrivendo farmaci. Il veterinario ha patteggiato 10 mesi per truffa aggravata, falso ideologico, falso materiale, falso incertificati e abuso di esercito di professione e poco meno di 500 euro di multa appena sospesa per la condizionale. Il Comune di Bellaria è stato già risarcito di 1.800 euro. È passato un mese dalla frana che ha sconvolto l'assetto della rupe di San Leo. Grazie agli accordi tra comune e privati, gli sfollati hanno tutti trovato ospitalità in alcune case del paese. A San Leo arriverà anche il sottosegretario all'ambiente Silvia Velo che il 4 e 5 aprile visiterà l'entroterra riminese insieme a San Marino. Oggi noi siamo stati a San Leo per capire quanto sia ancora sentita la vicenda del crollo e per raccogliere anche la voce di chi non sa quando potrà tornare a casa. Avete trovato in questo momento una sistemazione? Qui perché ci sono dei parenti, ci hanno ospitato loro, gli altri sono nelle case, sono riusciti a trovare un posto in qualche casa così e adesso aspettiamo che ci dicano qualcosa, che si possa ritornare. Sono preoccupati, sì, si sente un bel magone perché insomma una cosa così, il pensiero di non poter più rientrare in casa non è bello. Non ci dicono niente perché anche loro non lo sanno. Adesso fallo tutti gli accertamenti, guardano tutte queste, ma non sappiamo che fine faremo. Ormai le 15 persone delle 10 abitazioni evacuate a San Leo hanno tutte una sistemazione, non più in affittacamere ma in altre case. Non sanno però quando potranno rientrare nelle loro di abitazioni e il maltempo complica ancora le cose. I geologi dovranno aspettare un meteo migliore per calarsi dalla rupe e intanto il crollo resta il principale argomento di discussione nei bar Leontini. Se ne parla molto perché i problemi ci sono, nel senso che abbiamo le scuole spostate, la strada panoramica chiusa e i disagi per chi abita qui. Aspettiamo che ci siano dei risultati positivi nelle analisi che stanno facendo per poter avere una vita che torna alla normalità. Perché adesso pensando anche per il periodo estivo, con una strada chiusa, tutta una serie di cose che non si possono fare. Dentro si è calmato ma fuori. A fine settimana abbiamo delle grangite di persone. Ma avete lavorato un po' di più? Il lavoro, diciamo, a fine settimana non manca, non ce n'è moltissimo ma non manca. Però non grazie ai curiosi, diciamo. I curiosi sono più quelli che vengono per vedere come stiamo noi nel paese e allora poi si fermano di più. Quelli che vogliono vedere il crollo guardano da fuori, gli piace più stare fuori. Di quel giorno cosa si ricorda? Mi ricorda un po' di confusione, un gran botto. Mia moglie che usciva di casa, io ero di fuori, nel giro di cinque minuti sono arrivato là giù, ho fatto un gran fumo. Sono stato tra i primi, dai, arrivare lì. Intanto più a valle, il georadar, protetto da una cabina in legno, continua le sue misurazioni. In attesa dei primi risultati si sentono però anche a orecchio nudo rumori che non lasciano indifferenti. Gli azionisti Karim dopo quattro anni torneranno ad avere i dividendi e uno degli elementi del bilancio 2013 approvato oggi dal CDA dell'Istituto di Credito Riminese aumentano gli impieghi sul territorio ma anche le sofferenze. Vediamo. Il primo anno post-commissariamento per Karim si chiude con un utile netto di 5,9 milioni e gli azionisti tornano anche ad avere un dividendo 0,0287 euro per ognuna delle oltre 49.000 azioni. L'ultimo dividendo risaliva al 2009. Questi alcuni dei numeri del bilancio 2013 del Maggiore Istituto di Credito Riminese che presenta alcuni dati in controtendenza rispetto al settore. Ad esempio aumentano la raccolta diretta, più 1,9%, e gli impieghi verso la clientela, 2,81 miliardi più 1,7 rispetto ad un meno 4,2 del sistema creditizio nazionale. A fronte di una riduzione dei grandi fidi, nel 2013 nuovi crediti per 350 milioni sono stati indirizzati a famiglie e piccole e medie imprese. Segno più anche per i clienti, 5.000. Da segnalare però il deteriorarsi dei crediti, colpa anche della crisi, più 159 milioni tra sofferenze, incagli e crediti ristrutturati. L'impegno messo in atto da Carim per garantire maggiore efficienza organizzativa ha portato poi ad una riduzione delle spese amministrative di 74,8 milioni che consentirà di evitare riduzioni di personale. Il 2013 per la banca sancisce anche il completamento della fusione con Eticredito. Uno dei primi effetti sarà la pubblicazione del primo bilancio sociale dell'Istituto che lo scorso anno ha comunque garantito 285.000 euro per attività di sostegno sociale sul territorio. La spending review si abbatte ancora una volta sulle consulenze. Nel 2013 il Comune di Rimini ha affidato incarichi esterni per circa 1.600.000 euro per una spesa effettiva reale di poco più di 1.200.000, con una diminuzione di quasi il 12% sul 2012. In quattro anni la spesa è stata quasi dimezzata. Nell'ultimo anno la spesa del Comune di Rimini per gli incarichi esterni è scesa di quasi il 12%, una riduzione progressiva dal 2010 del 48%. In quattro anni si è passati da 3.150.000 ad 1.600.000, circa un milione per la parte corrente, 600.000 per quella straordinaria. Da entrambi i capitoli di spesa, però precisa l'amministrazione, vanno tolte alcune voci, da quella corrente i 56.000 euro a carico della Comunità Europea, i 30.000 per le spese notarili relative all'ex seminario e i 91.000 per competenze tecniche di Acer, pagate con i canoni degli alloggi ERP. Questo riduce la spesa effettiva ad 803.000 euro, era di 878.000 nel 2012. Anche dalla parte straordinaria, di 647.000 euro, vanno decurtati 92.000 euro a carico di regione e università e 141.000 per un subentro di incarico già finanziato negli anni precedenti, per cui la spesa finale è di 413.500 euro, era di 503.000 nel 2012. Andando a spulciare i vari incarichi, le voci più cospicue sono quelle delle consulenze tecniche, circa 500.000 euro. Ci sono poi 177.000 euro per progettazione e diversi gli incarichi legati al Teatro Galli, 169.000 per tuteli in giudizio che hanno coinvolto il Comune, si spendono circa 74.000 euro in docenze, 62.000 in attività di comunicazione, 85.000 in corsi di formazione, 40.000 per le cure veterinari al canile, 30.000 in convegni e 25.700 in prestazioni artistiche. Tra le cifre più corpose, i 141.000 euro ad acer per le spese tecniche del programma a 20.000 alloggi, i 69.000 ad uno studio di progettazione per il foyer del Teatro Galli e i 54.000 per una consulenza economica finanziaria per il progetto Adria Futuring. Prosegue senza sosta la costruzione del nuovo ponte di Via Coletti a Rivabella, che dovrebbe essere ultimato entro giugno. Dopo la demolizione completata domenica scorsa, adesso tocca alle fondamenta del nuovo manufatto. In particolare è stato piantato uno dei pali di fondazione della spalla lato Rivabella. Le operazioni di trivellazione sono arrivate fino a 30 metri di profondità con esito positivo. I lavori, come vedete anche da queste immagini, sono sorvegliati dai molti curiosi appostati sulle sponde e tra questi probabilmente c'è anche qualche commerciante o albergatore preoccupato che i lavori non finiscano in tempo per la stagione estiva. Via Libera del Senato ha la fiducia posta dal governo sul DDL del Rio, che prevede lo svuotamento e la riorganizzazione delle province. Un passaggio importante, uno dei più difficili per la maggioranza. A favore del maxi emendamento hanno votato 160 senatori contro 133. Contrari si sono dichiarati Forza Italia, il Movimento 5 Stelle e SEL. Il provvedimento torna adesso alla Camera in terza lettura. Il testo prevede che il Presidente della provincia e la Giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014. Per il futuro, la legge prevede poi non la soppressione del Consiglio provinciale e della figura del Presidente della provincia, tutti i carichi comunque svolti a titolo gratuito, ma la loro elezione in forma indiretta da parte del nuovo istituto dell'Assemblea dei Sindaci. Che cosa pensano i riminesi? Sentiamo. Ma non ho seguito molto questa vicenda, sinceramente non saprei come pronunciarla. Sembra che i costi rimangano lo stesso, bene o male. Diciamo gli stipendi dei Presidenti, dei consigli, dei consiglieri che vengono ripartiti da altre parti. Devo capire meglio. È difficile. Adesso speriamo che Renzi, siccome sono tutti giovani, che ci sia molto entusiasmo. In queste cose bisogna crederci però, perché sono tante cose da rifare. Per ora bisogna dargli credito per quello che sta facendo o almeno sta dicendo. Vediamo che, poi verificheremo se sono chiacchiere o sono fatti reali. Fa bene Renzi, eliminiamo tutto quanto. Ma guardi, bisogna capire esattamente che cosa si intende per taglio alle province. Se spostano semplicemente le persone dalla provincia alla regione o non so dove, non capisco il taglio. Comunque sia, le attribuzioni della provincia passano alla regione, quindi potrebbe esserci un potenziamento di altri uffici, sempre scappatoie che potrebbero neutralizzare il fine del provvedimento. Io penso che sia una cosa giusta, perché c'è troppa. L'Italia è l'unico paese in cui la spesa della politica è onerosa, è un elemento oneroso proprio per il bilancio dello Stato italiano. Quindi fa bene Renzi se mette in pratica ciò che ha detto. Anche perché ormai siamo stanchi delle promesse continue e mai mantenute. Io sono perfettamente d'accordo. Non sono d'accordo, perché io penso che dovevano togliere davanti le regioni, non le province. Direi che è una svolta necessaria. È necessaria perché si è giunta ad un punto che i costi della politica ci rovinano. Ma hanno fatto bene cacciarle via. C'è parecchio roba da tagliare, sicuramente. Invece di tagliare sanità, istruzione e cultura, tagliare altro. Queste tre cose sarebbero fondamentali. Ah guarda, io sono contrarissima, mio marito rimane senza lavoro, lavora lì qui. Siamo ai 100 secondi. Fiamme ieri nel bagno esterno della chiesa San Giovanni Battista di Coriano e in due cassonetti dell'immondizia lì vicino. Per spegnerle sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Per fortuna nessun ferito, si sospetta il dolo, indagano i carabinieri. C'erano anche i parlamentari riminesi Arlotti e Petitti questa mattina alla messa celebrata da Papa Francesco alle 7 in San Pietro. Presenti oltre 500, tra deputati e senatori, e numerosi ministri. Papa Bergoglio ha lanciato un forte moneto contro la corruzione della classe dirigente. I peccatori saranno perdonati, ha detto. I corrotti, no. Dei 400 mezzi controllati negli ultimi giorni dalla Polizia Municipale di Rimini, 14 sono stati trovati senza il contrassegno e sequestrati, altri 13 non avevano fatto la revisione. Un'automobilista è stato denunciato perché senza patente, 9 per eccesso di velocità, 8 perché senza cintura, 15 trovati alla guida col cellulare, 23 gli incidenti rilevati. Acquista online una PlayStation 3, paga 150 euro col servizio Poste Pay, ma non riceve nulla. A truffare il ragazzino, un 73enne Alessandrine e una 56enne Forlivese, sono stati denunciati dai carabinieri di Sant'Agata. Dal primo al 17 aprile saranno aperte le iscrizioni al centro estivo comunale di Via Cairoli a Riccione, che si sposta dalla ex colonia Bertazzoni. La giunta ha approvato il bando pubblico, possono iscriversi bambini dai 6 ai 14 anni, con precedenza perché già frequentato il centro estivo. Le attività esterne continueranno a svolgersi nella spiaggia dell'ex colonia. Domani, giornata in ricordo dei missionari martiri, il Vescovo Lambiasi alle 21 in Basilica Cattedrale consegnerà il mandato missionario ad Alberto Zamagni, 21enne, in pretenza per un'esperienza di un anno in una missione in Venezuela, dopo la veglia, l'adorazione eucaristica. Seconda edizione del convegno nazionale Guarir dal ridere, organizzato dall'Aonlus Dottor Claun di Rimini. L'appuntamento è per sabato 5 aprile ed è rivolto a tutte le associazioni di Claun Terapia. A Rimini i dottori Claun sono attivi da 2003 e sono circa 200 i volontari che in questi anni hanno portato un sorriso all'ospedale infermi di Rimini. È possibile Guarir dal ridere? Chissà. Sicuramente un sorriso e un atteggiamento positivo aiutano ad affrontare meglio la malattia. Una domanda questa che si porranno i volontari delle tante associazioni dottor Claun sparse sul territorio nazionale che il prossimo 5 aprile si incontreranno a Rimini per un convegno sull'umanizzazione dell'ospedalizzazione. Una giornata con relazioni frontali ma anche confronti di esperienze proposte inviate dai diversi gruppi con discussioni sul ruolo dei Claun dottori, sui risultati terapeutici e sulle possibilità future. Condividere le esperienze e chiedere a un'altra associazione che cosa ha fatto e che come ha fatto e offrire la propria esperienza aggiunge valore a quello che viene fatto e soprattutto dà la possibilità che la qualità del servizio cresca esponenzialmente. Attivi da circa 10 anni i dottor Claun a Rimini sono 65, alcuni del settore, altri studenti, operai, ingegneri o cuochi. Ogni anno nel solo reparto di pediatria di Rimini passano 1800 piccoli pazienti e la collaborazione tra personale medico e dottor Claun è importante perché aiuta nel processo di cura del bambino. Il bambino di solito quando arriva in ospedale è spaventato, si trova in un ambiente diverso dal solito con delle persone sconosciute, a paura del male. Quindi avere delle persone che ci aiutino a instaurare una relazione con il bambino ci favorisce il processo di cura e poi migliore il clima con i genitori, tra bambini e genitori, tra genitori e persone del reparto e anche tra di noi all'interno del reparto direi. Ma essere dottor Claun non è animazione, non vuol dire solo portare un sorriso. Per questo occorre superare una selezione e seguire un corso di formazione per affrontare vari aspetti legati alla figura del Claun in corsia, come l'ascolto, la psicologia, l'improvvisazione e naturalmente la cloneria. Essere dottor Claun non è portare qualcosa, non è solo portare un palloncino, non è solo portare una risata perché ci sono situazioni dove proprio non è possibile portare la risata. L'obiettivo non è quello di far ridere. L'idea è quella di entrare in una stanza e di uscire lasciandola un po' meglio di come la si è trovata. L'ex giocatore del Milan e della Nazionale Azzurra, ora allenatore Gennaro Gattuso, è stato ospite oggi pomeriggio del corso di laurea magistrale in Scienze Motorie all'Università di Rimini. C'eravamo anche noi. Rino Gattuso, a campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana, è salito oggi pomeriggio in cattedra alla sede riminese dell'Università di Bologna, invitato dal corso di laurea magistrale in MAMS, Management delle Attività Motorie e Sportive. Oggi sono qua per far capire loro perché è bello studiare, però dopo è importante studiare perché ti fa capire tante cose, però dopo c'è la giungla fuori che il campo per loro è lo sport, perché senza i motori per loro è l'esperienza che bisogna fare con i giovani, con le persone. Le difficoltà sono pazzesche. Anch'io ho cominciato un nuovo lavoro, sono da tanti anni nel mondo del calcio, però devo dire che ho trovato grandissime difficoltà perché è un altro mondo, è un altro... devi spiegare ai ragazzi, devi fargli capire l'importanza, devi essere veloce come sono loro e non è facile. Ringhio, come veniva soprannominato dai tifosi per la grande grinta messa in campo, ha parlato anche della crisi del Milan. Penso che in questi 25 anni della presenza a Berlusconi ci sono state più gioie che dolori, ci sta un momento di appannamento e che la società ha delle difficoltà, però penso che massima fiducia nella dirigenza, sicuramente il Milan è il Milan, il Marchio Milan sarà sempre il Marchio Milan ed è normale che oggi c'è una politica diversa, ci sono tantissimi giovani, hanno bisogno di crescere, però penso che, ripeto, il Milan ritornerà allo splendore. Con i mondiali in Brasile quasi alle porte, Gattuso ha parlato anche di nazionale e dell'importante appuntamento estivo. Randelli penso che ha un merito di aver cambiato la mentalità alla nazionale italiana, è una squadra sempre propositiva, una squadra che porta tanti giocatori in avanti, preferisce un centrocampo tecnico e penso che ha tantissimi meriti e penso che la nazionale può fare bene al mondiale. Ma noi siamo sempre l'Italia, io spero che succeda un po' di bordello, perché la nostra storia insegna sempre che quando ci sono casini, quando ci sono le cose che non vanno bene, da noi esce sempre il meglio, penso che quando siamo tranquilli pensiamo di essere più bravi, più belli e dopo prendiamo sempre dei grandi schiaffi in faccia. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Dalla redazione, buona serata.